Io so che lei è tifoso, l'andrà a vedere la partita oppure no da sindaco? Andrò, sono chiesto un accredito in rappresentanza della città, subito dopo la celebrazione di un matrimonio andrò alla partita. La partita è a porte chiuse, cercherò nel limite delle mie possibilità di fare e rappresentare tutti i tifosi paganesi a Bisceglia. In effetti la città non penso si sia allontanata dal calcio, è questa pandemia che ha allontanato un po' tutte le tifoserie in presenza, per cui è ovvio ed evidente che sentiamo tutti quanti l'assenza della presenza allo stadio, a pagani come altrove, però il cuore batte sempre azzurro stellato. E allora Forza Paganese? Sempre Forza Paganese.